Ve lo dico subito, non voglio tirarmela, ma siccome tantissimi di voi mi hanno chiesto di farvi vedere gli ultimi acquisti, ve li faccio vedere Non me la tiro Borsa Iceloran 12.000 euro Borsa Dior 7.850 euro Borsa di Prada 11.256,7 euro Valenciaga soltanto 8.760 euro Jimmy Choo, se non sbaglio, 1.850.000 euro Hi, I'm a Vizca Girl S-s-s-s-s-s-sñas iбы-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s Oh, e'know, I'm a Vizca Girl S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Perfetto! Far finta di studiare mentre guardi la tv, check! Bere dalla bottiglia, check! Fare la tv, check! Let me play among those stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Che bella persona che sei! Cos'è? Hai avuto un'infanzia difficile? La mamma non ti diceva mai che ti voleva bene o era papà che non veniva a vedere le tue partite di calcio? Io vi ringrazio ma bisogna fare attenzione perché la bellezza è un'arma a doppio danno. Aiuta negli affari ma rende più difficile il rispetto. Quanti anni hai? 31 Non pensi di essere un po' vecchia per fare i musicali, è ora di smetterla. Tu invece quanti anni hai? 38 Non pensi che siano già troppi anni che non ti fai gli affari tuoi? Quanti anni hai? 31 Quanti anni hai? Ciao! Grazie a tutti